...che resisterà ai millenni. A Pozzolatico, presso Firenze, la villa Mirafiori è divenuta un istituto intitolato alla medaglia d'oro Tina Lorenzoni. Se non ci fosse la targa dell'autopullman, sembrerebbero piccole, liete collegiali. Le mutilatine di guerra guardano con una certa prensione il taglio dei capelli. Sono forbici amorevoli, bambini, e questa recisione non è come l'altra, per sempre. L'uniforme viceversa dà la gioia di un vestitino nuovo. E la vita dell'istituto prodiga di serena Letizia si allea alla giovanile forza di recupero. Sotto legida dell'opera Invalidi di Guerra, la bellissima villa toscana sta ampliandosi per contenere 200 ospiti provenienti da tutta Italia. Da lontano un festoso vociare, da vicino incontriamo sguardi irrimediabilmente esclusi. Le mani invece possono tornare ai loro compiti, faranno la calza domani per i loro bimbi.